Il governo israeliano ha ottenuto una riunione d'emergenza dopo il terzo giorno consecutivo di scontri sulla spianata delle moschee a Gerusalemme Est. Alcuni giovani palestinesi che si erano barricati nel complesso di Al-Aqsa hanno lanciato pietre e petardi sugli agenti israeliani che hanno poi smantellato le barricate e chiuso le porte della moschea. È il secondo giorno del capodanno ebraico. I disordini nascono dall'afflusso di gruppi di ebrei alla spianata, sacra anche per loro perché rappresenta il monte del Tempio. Il capo negoziatore palestinese Saeb Reqat denuncia un piano spaventosamente criminale da parte di Israele, accusata di voler spartire la moschea di Al-Aqsa. Secondo i palestinesi, Israele tenta di imporre con visite quotidiane di gruppi di ebrei sotto scorta il fatto acquisito di una spartizione del luogo sacro, almeno due palestinesi arrestati che si sommano alla decina dei giorni precedenti.